Il Milan viene travolto in casa dal Liverpool, la Juventus vince in maniera netta e chiara sul PSV Eindhoven, ma ovviamente a tenere il banco è soprattutto l'ennesimo scivolone del Milan. Ed è uno scivolone gravissimo, non solo per la misura di questa sconfitta. Si finisce con otto tiri in porta a uno in favore della squadra ospite del Liverpool, ma per il senso di impotenza totale che il Milan ha vissuto e che i tifosi hanno dovuto vedere in televisione o allo stadio rispetto alla formazione inglese. È evidente che il Liverpool sia, forse, più forte del Milan, non è evidente però che nel calcio una squadra tecnicamente inferiore, ma non di due categorie inferiori, come il Milan rispetto alle qualità dei singoli del Liverpool, non sia riuscito a opporre una resistenza dignitosa e comunque ad avere un confronto, se non ad armi pari, non così impari come si è visto. È stata una serata terribile per il Milan, annunciata già da una presenza di pubblico inferiore a qualsiasi più pessimistica previsione. Sui 74 mila posti disponibili, soltanto 59 mila sono stati occupati. Certo c'è un problema, caro Biglietti, ma c'è un problema molto più grave che è quello dell'identificazione dei tifosi in una squadra, in un allenatore, in una società che sembrano veramente molto distanti da qualsiasi esempio della storia milanista. Ecco, se c'è un fatto assolutamente grave nel Milan di oggi a livello societario e anche di squadra, è quello di aver tolto l'unico patrimonio che fa parte di una tifoseria a inizio stagione, cioè la speranza. Quando comincia una stagione, qualsiasi tifoseria di qualsiasi squadra ha una speranza, a volte magari in mala riposta, di poter fare delle cose importanti, di poter raggiungere dei traguardi. Purtroppo il Milan, in questo inizio di stagione, ai suoi tifosi ha fatto cadere anche l'ultima speranza. È partito malissimo in campionato, ha avuto una serie di polemiche interne gravi, come la famosa vicenda del cooling break, ha un allenatore che dall'inizio non è sembrato mai interpretare il ruolo del condottiero, ha alcuni giocatori che non hanno mai fatto i leader e addirittura si è dovuto improvvisare tale nella conferenza pre-partita Morata, che è l'ultimo arrivato, ha un proprietario che si vede poco e che non parla mai, e ha un dirigente che se ne va per i suoi affari due settimane e che quando torna dice «Io sono leone, gli altri sono i gattini, non devo spiegare niente a nessuno, io comando, gli altri lavorano». Ecco, il combinato disposto di tutta questa situazione ha portato a un collasso dell'immagine del Milan agli occhi dei suoi tifosi. Io credo che il fatto più grave in questo momento è soprattutto la vigilia di un derby che si presenta molto complicato anche per l'infortunio di Imegnan, che è stato lui sì davvero un simbolo, ma soltanto lui che è uscito dal campo quasi senza riuscire a camminare, che piangeva per il dolore e forse anche per la delusione. Ecco, si presenta questo derby senza speranze, poi per fortuna il calcio ci smentirà, magari il Milan questo derby lo potrà anche vincere, ma davvero anche il tifoso più pessimista non poteva immaginare contro il Liverpool di perdere in questo modo, perché, ripetiamo, ci sono tanti modi per perdere nel calcio. Il Milan ha perso senza combattere mai, ha perso senza avere uno straccio di identità, non solo nel gioco, ma anche nella determinazione, nella garra, nella volontà, nel battersi. Ecco, tutto questo evidentemente lo si percepisce, lo si percepisce dallo stadio e lo si percepisce dalla televisione. È una stagione che non è nata sotto una cattiva stella, è una stagione che è frutto di una serie di decisioni che sono state completamente sbagliate, perché il fatto grave, se vogliamo, è che il Milan in qualche modo si è mosso sul mercato. Il Milan ha fatto delle azioni per cercare di rinforzarsi, ma probabilmente ha sbagliato tutta la struttura societaria. Ecco, non si è accorto il Milan, questa è la sensazione di avere intanto uno spogliatoio con poca tensione emotiva, morale, con poca identificazione. Non a caso affida poi la fascia di capitano a Teo Hernandez che voleva andarsene via e che poi si fa sorprendere con questi gesti di zittire i tifosi. Un altro che dovrebbe essere capitano, anche lui che è stato sorpreso a zittire, forse Teo Hernandez più la critica, più noi che i tifosi, va bene, comunque è un gesto brutto in campo. Leao lo ha fatto invece verso i tifosi a Parma. Ecco, questi dovrebbero essere i due giocatori che in qualche modo dettano i tempi e la temperatura dello spogliatoio. In questo spogliatoio, quindi, così di solisti, di persone che non identificano se stessi con la squadra, e dispiace dover citare ben altri giocatori del Milan nel passato che erano da esempio per tutti gli altri compagni, partendo da Maldini, passando per Baresi, per Costa Curta, per Tassotti, per Donadoni, per Ancelotti, per Raikard. Ecco, fa male dover fare questi nomi accostandoli a certi atteggiamenti invece di chi completa lo spogliatoio del Milan in questo momento. Ma al di là di tutto questo, era necessario probabilmente prendere qualcuno di veramente esperto per cercare di risolvere una serie di problemi che si stanno sovrapponendo. Io credo che il problema vero del Milan non sia tanto un problema tecnico. Non sono giocatori scarsi. Una squadra come questa dovrebbe essere, perlomeno a livello del Napoli, in campionato, cioè avere almeno 9 punti, 10 punti, 8 punti, e avrebbe dovuto perdere magari con il Liverpool, ma in maniera meno ignominiosa, senza combattere praticamente mai, oltretutto passando in vantaggio in maniera anche un po' sporadica, dopo tre minuti alla prima azione. Quindi sarebbe stato il momento in cui davvero c'era la volontà di tutti, il saper far squadra, il saper buttare il cuore oltre l'ostacolo. Non c'è mai stato. E temo, temo, spero di sbagliare, che questa caratteristica fondamentale per vincere, quest'anno non ci sarà mai. Non c'è, credo, nell'allenatore che è esangue, non c'è in troppi protagonisti, e non c'è neanche nella dirigenza, perché, ripetiamo, se Ibrahimovic si permette di definirsi un leone che è tornato e che comanda e tutti lavorano quando lui gli fa scattare a bacchetta, frase anche, secondo me, un po' umiliante per gli altri dirigenti del Milan, io credo che Ibrahimovic non sia uno che dice cosa fare schioccando le dita a Furlani o a Moncada, però è questa la comunicazione che lui ha dato, Urbi e Torbi. Ecco, penso che sia necessario recuperare nel Milan una capacità di senso di appartenenza, di senso di sacrificio, che io non vedo né nei giocatori, né nell'allenatore e neanche in Ibrahimovic per come si sta comportando. Questa, evidentemente, è stata una scelta errata di Cardinale ed è una scelta incomprensibile. Vale a dire, Cardinale a un certo punto ha detto non mi piace Maldini perché è troppo personalista, mette l'io davanti a noi. Ha provato a fare una squadra, un gruppo di lavoro, e dopo tre mesi lo ha smontato. Il gruppo di lavoro era Pioli, che sicuramente è una persona comunque di carattere, di anima, con Furlani e con Moncada. A un certo punto, dopo soli tre mesi, decide che Pioli non gli piace più. C'era già stato un mezzo riferimento a novembre-dicembre sul fatto che sono troppo infortunati. Decide che non bastano più questi tre per gestire il Milan e che cosa fa? Mette un super ego come quello di Ibrahimovic, che ha, oltre al problema di essere un super ego, cioè di fare squadra soltanto con se stesso, ha il problema che non aveva nessun tipo di esperienza, neanche nei rapporti umani. Perché Ibrahimovic, come tutti i campioni, ritiene di essere una specie di Dio sceso in terra e che tutti debbano pendere dalle sue labbra. Ecco, il combinato disposto di tutta questa gestione così personalistica, così arrogante, così priva del senso del noi, ha portato non soltanto prima la squadra a sgranarsi, non soltanto ad avere delle situazioni imbarazzanti come quelle che abbiamo visto alcuni in Breck. Lo ricordiamo ancora, anche se Tornandes fa il segno di stare zitti, non si era mai visto prima che in un cooling break ci sia un allenatore con nove giocatori intorno e gli altri due costantantemente se ne vanno dall'altra parte e non si avvicinano neanche per sentire le sue indicazioni. E alla fine tutto questo si è, in qualche modo, trasferito in una tifoseria, che sta diventando, ed è questo che fa veramente paura, apatica. E quando il tifo del Milan, che è un grande tifo, diventa apatico, lo ricorderete, accade l'ultima volta con il Berlusconi che vendette cacà, si crea poi una serie di reazioni a catena che non sono mai positive. Io credo che in questo momento l'unica cosa che possa fare seriamente Cardinale sia di velocemente rivedere tutte le sue ultime decisioni a livello proprio di staff tecnico, di dirigenza, lasciando fare ai suoi dirigenti quello che sono capaci di fare e non altro. Quindi Furlani, sicuramente grande uomo di finanza, che continui a fare l'uomo di finanza nel Milan, Moncada, grande osservatore, che continui a fare l'osservatore e poi prendere almeno un uomo di calcio da mettere per gestire un gruppo, uno spogliatoio, un allenatore che in questo momento, e questa è la cosa che fa più male, sembrano sloccare senza cuore. Grazie.